All'interno del progetto Erasmus Plus, qui nel comune di Loretta-Protino, insieme al polo didattico della scuola primaria, anche la fondazione No Man's Land è qui per aggregare i più piccoli al proprio progetto. Noi siamo onorati veramente di essere parte di questo comune come fondazione, perché è un comune meraviglioso ed è una scuola veramente d'eccellenza, tant'è vero che anche l'Europa l'ha capito. E quindi noi siamo molto contenti di poter presentare a questi insegnanti che sono venuti da vari paesi il progetto di No Man's Land, che è No Man's Land nel senso di belongs to everybody, No Man's Land, la terra di tutti. Ed è molto importante che un progetto come il nostro arrivi ai giovani, ai ragazzi, alle scuole. La scuola di Loretto, innanzitutto, dobbiamo dire che è una scuola UNESCO e quindi tiene a determinati valori che devono essere presenti in tutto il mondo. Parecchi docenti di paesi dell'Europa che sono venuti qui a Loretto per visitare i nostri plessi, le nostre scuole. Il progetto sicuramente potrà veicolare molte realtà perché fare questi scambi culturali sono sicuramente un arricchimento della propria cultura. Un evento che durerà tre giorni e che porterà appunto questi 21 membri a conoscere il nostro territorio.